Stasera si rinnova una sfida che ha fatto la storia del calcio italiano Juventus contro Roma. Una buona serata allo stadio olimpico di Torino da Maurizio Compagnoni. E Antonio Di Gennaro. L'inserimento centrale di Nettel, palla dentro del Piero in area, del Piero! Si allunga troppo il pallone, Doni. Si inserisce ancora Panucci, lo va a prendere Molinaro, subito il cross di Panucci, palla sottoporta! Palo! Parte del Piero, palla sottoporta, Chiellini, Doni! Non è finita Molinaro, può andare alla cross, pallone che si impenna, mette fuori Quan. Si provoca Molinaro, grande forcata, prova a prendere in velocità Panucci che non lo tiene. Molinaro, va al traversone, a Maurizio Marchionni! In breve la rincrossa di Del Piero, fischiato Rizzoli. Parte del Piero, Del Piero, rete! Rete, un gol ancora più bello rispetto a quello allo Zenit. Apertura delle portoghese, pallone perfetto per Amorinaro. Applausi per Tiago, una novità, Del Piero! Del Piero porta palla, allarga a destra per Marchionni che arriva puntuale, il cross di Marchionni, a Maurizio Doni! Pallone di Nedvede per il capitano della Juve, scattata a Mori, Del Piero, Zonatino. Del Piero allarga per Marchionni che arriva a rimorco, Marchionni, in area Marchionni! Rete, rete, Marchionni, un gran gol! Del Piero, Molinaro. L'assisto di Molinaro, a cercare a Mauri! Immobile Doni, palla di poco fuori, grande avvio di secondo tempo anche di Amorin. Si propone Del Piero, le finte di Marchionni, sovrapposizione di Grieghera, palla per il cieco, il cross di Grieghera, deviazione pericolosissima, ma comunque efficace di Pana in calcio l'anno. Defende il pallone Del Piero, Pisano non lo molla, si gira bene Del Piero, ritroverà Mauri, in area, Mauri porta il tiro, Doni! Game over all'Olimpia di Torino, una grande Juve, supera 2-0 la Roma.